Grande successo per Inmeta per Tancredi Strabidoso risultato per il torneo di Rugby Touch Inmeta per Tancredi in favore della raccolta fondi pro-tancredi organizzato da Pass1, Iris e Passwork in rete e Siraco Rugby Club con la partecipazione di ASD Mediterranea sul campo di Floridia Grande affluenza di pubblica, di rugbyster e rugbyster di tutte le età che si sono avvicendati sul terreno di gioco dando vita a partite avvincenti che hanno coinvolto anche molti curiosi Ma la meta più importante è stata raggiunta fuori dal campo Al termine della serata infatti sono stati raccolti oltre 2.600 euro che verranno interamente devolute alla famiglia Sant'Angelo Contributo sincero e partecipe in pieno spirito rugbystico per affrontare la difficile sfida dell'intervento chirurgico che può salvare la vita a Tancredi Un grande ringraziamento da parte di Pass1 e Siraco va a tutti coloro che anche a distanza hanno dato il proprio contributo per il successo della iniziativa Grazie a tutti